Archiviato anche il terzo trimestre, la CGL Toscana fa il nuovo punto sull'economia regionale e sul mercato del lavoro toscano attraverso gli studi del Focus di Ires che prende in esame i flussi di avviamento al lavoro, i dati sull'export e la cassa integrazione. Numeri alla mano, cosa ci dicono riguardo la recente liberalizzazione dei contratti a termine a distanza di sette mesi dal loro avvio? Le manovre che sono state fatte sul mercato del lavoro, anche nel passato, non hanno assolutamente ridotto l'aliquota dei contratti di natura precaria che vengono stipulati da noi in Toscana ma anche in Italia. Addirittura c'è un peggioramento rispetto al tempo indeterminato perché con l'ultima rilevazione ci dava un dato migliore di quello che abbiamo oggi. Quindi le manovre non servono per ridurre la fascia di precariato. E comunque c'è un dato sul mercato del lavoro che è pesante perché il dato è sempre costantemente segnato dai numeri negativi. Ci vogliono politiche diverse, questo in sostanza dice il Focus appena presentato, quindi anche la manovra finanziaria è da rivedere. Come abbiamo evidenziato con questi numeri, le varie misure prese dal governo Renzi a partire dalla liberalizzazione delle assunzioni con i contratti a termine sui contratti a termine non hanno prodotto alcun risultato. D'altra parte, l'avevamo detto, pensare con le regole di rilanciare un'economia imballata è come cercare di far ripartire una macchina che ha finito la benzina mettendo dell'olio nel motore. È impossibile. Ci vogliono diverse politiche espansive a partire da una rinnovata spesa pubblica per far ripartire lavori che sono bloccati. Pensiamo alla salvaguardia idrogeologica del Paese. Non ci vogliono operazioni di macchiaggio che sono puramente propagandistiche. Anche per quanto riguarda la disoccupazione, i dati sono sconfortanti? Oltre 13.000 licenziamenti nei primi sei mesi del 2014, il 15% in più del 2013, testimonia, peraltro in linea con l'aumento che c'è stato anche rispetto al 2012, testimonia che tutte le panzane che ci hanno raccontato sull'articolo 18, sull'alleggerimento già fatto dal governo Monti e Fornero, sono sciocchezze, così come la sciocchezza quella che è diffusa in questi giorni, secondo cui è impossibile licenziare e paradossalmente in una situazione fatta di licenziamenti di massa ci si viene a spiegare che la panacea per l'Italia è quella di favorire i licenziamenti. Francamente è una discussione ridicola.